come si chiama il nostro amico come ti chiamo angelo 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 è appena caduto con il monopattino su quel dislivello stradale giusto angelo e ha colpito i signori che erano lì per fatti propri come state mi siete fatti un po male mi siete fatti un po male questo serve per denunciare miei cari lo stato pietoso delle strade di questa città perché poi incentiviamo da un lato l'utilizzo del monopattino vero angelo dei mezzi alternativi alle autovetture e tutto il resto ma le strade guarda tino vieni qua vieni a vedere che gruviera è qui mentre la gente passa col monopattino è chiaro che se angelo e tutti gli altri amici del monopattino prendono questi dislivelli come abbiamo visto sotto i nostri occhi scivolano cadono ti sei fatto anche male immaginiamo fatti vedere perché hai preso una caduta bruttissima eh si è rotto il giubbotto ma quello è il minimo sindacale mi raccomando occhio perché abbiamo visto qualcuno che per esempio fa i trasporti per i supermercati con il monopattino mentre parla al telefono mira o vanno in tre sul monopattino occhio perché giusto angelo si è così vi bisogna un po fare attenzione alla alla qualità del manto stradale è importante finiamo poi in ospedale mi raccomando angelo occhio alla strada miei cari signori voi come stati vedo claudicante vero si non siamo da questo di dove siete di francese francese mon père francese il non è un paura bologna non è non è che che una TRANTA è una strada di Nizza con l'amore di bellissima è una strada che si stai un'amore di Nizza con l'ambito e una strada anche un paura di Nizza con l'ambito che va chi ha, come dite voi a Nizza, va chi ha The Moussander, ok? The Moussander, va bene? Buon voyage, buon voyage, mi raccomando, guardalo, chi te lo doveva dire? Ci voleva dire alla francese, guarda Tino, e vanno Claudicanti perché è stato colpito in pieno, l'abbiamo visto, siamo testimoni oculari, oculari, siamo testimoni di questa caduta pazzesca, Tino, ma guarda un po', ma come è possibile non cadere? Ti faccio vedere il punto esatto dove è scivolato il nostro amico, Tino, guarda, eccolo là, guarda il monopattino, attenzione, no, vedi, vedi, attenzione, guarda Tino, è qui, lui ha girato, ha preso questo dislivello ed è caduto rovinosamente al suolo, quindi incentiviamo l'uso alternativo di questi mezzi, ma rendiamo le strade di Bari sicure, perché altrimenti il turista quando torna a casa su frangesti, no, sai che cosa dice? Papà, come è andata a Bari? Ti sei divertito? Che ne sai figlio? Che ne sai figlio? Mi ha colpito un signore che è caduto rovinosamente al suolo, dopo... Tu erai dolce sin nuovo? No, erai proprio francese, Tino, e quindi au revoir, au revoir, au revoir, a nostro amico francese, Tino, e viva Bari, sii felice, sei a Bari, sii felice, sei a Bari, Sì, via Tattè che si felice, muove, beh, beh, beh,